Andiamo sopra, si vede che ci sono delle zone che non sono in sicurezza né per noi né per i bambini, sta crollando tutto sopra sopra, tutto giù, sasticemente, tutto. È diventata una situazione insostenibile e pericolosa, quella che stanno subendo i residenti di via Achille Severini a Calcinelli di Collia Metauro. Infatti, chi abita ridosso del cantiere Fermodanni, che insiste su via Sant'Egidio, non dorme più suoni tranquilli. L'asfalto che cede davanti all'ingresso di casa, crepe sui muri delle abitazioni e verde incolto che nasconde animali e rifiuti di ogni genere. Proprio qui, ieri, è divampato l'ennesimo incendio domato dai vigili del fuoco di Fano intervenuti con due mezzi. Il rogo è partito da bordo strada, forse per le alte temperature o per una cicca di sigaretta gettata a terra. Da quanto tempo abitate in questa via? Da 22 anni. Diciamo che questo cantiere l'abbiamo visto nascere. e già noi ci eravamo accorti che c'erano delle cose che non andavano quando facevano i carpentieri per fare le gettate. Ma questi che stanno a fare? Perché ci sono degli appartamenti a 5 metri sotto il livello della strada da sopra. E quindi poi li hanno bloccati quando sono arrivati sopra. Potevano bloccarli prima, insomma. E da quanto tempo ormai è tutto abbandonato? Da 17 anni circa. Che noi stiamo insistendo e mandiamo avvisi, telefoniamo ai vigili, al comune, siamo andati sopra, abbiamo fatto la lettera con un legale, abbiamo protocollato tutto al comune, ma non è successo niente. Non si hanno notizie nemmeno della proprietà, hanno precisato i residenti. E intanto il tempo passa e i danni peggiorano. Prima dell'incendio qualcuno aveva chiuso con dei pannelli questi grossi fori per la paura che qualche bambino potesse entrare nell'area facilmente accessibile e caderci dentro. Dopo il rogo di ieri però si è da punto a capo. Sappiamo che erano due fratelli di Fano, però noi non li abbiamo mai visti, non ci abbiamo mai parlato. Diciamo pure per fortuna loro, perché se no qualche cazzotto in testa li ho ritirato volentieri, perché non si può lasciare questa schifezza con tutti gli animali che c'entravano in casa, serpenti, ma è una cosa incredibile. Da 17 anni. Questo tra l'altro non è il primo incendio, giusto? Questo è il terzo, ieri due volte. Il mese scorso già è successo un'altra volta, ci siamo quasi trovati in casa. Il problema comunque, come diceva lui, è una cosa annusa, non se ne può più. Siamo andati, come diceva lui, al comune, vigili e quant'altro, ma non si è visto mai nessuno. A livello politico nessuno. Vengono qua, ci conoscono solo per i voti. Per il resto non ci sono. A volte è diventata anche una discarica a cielo aperto. Sì, c'è di tutto. C'è del coinbendato sopra, se dove andate a vedere, ci sono dei copertoni, c'è di tutto, di tutto e di più. C'è gente che passa, qualche volta si è visto qualcuno dalla macchina che tira dentro, insomma, sacchetti della spazzatura. È diventata veramente un problema per tutti, perché abbiamo anche i bambini qua. Se guardi lassù, il terreno era a pari del muro di cemento, adesso è un metro e mezzo sotto. Il problema c'è, sta cedendo. È una cosa molto evidente, perché quando è stata fatta questa costruzione, loro dovevano fare dei pilastrini, delle cose, come hanno fatto sopra per la strada. Invece di qua non se ne sono fregati niente, perché non si sapeva ancora se di lì farevano un'altra scala a fianco alla nostra, perché questi non avevano garage. Quindi dovevano fare una rampa per la scala e una rampa per i posti auto. Tutto qua. Quello che manca, ed è importante, vedi là, ci vuole una parete di cemento, di contenimento. È quella che sta rovinando tutto. Là, più andiamo avanti, più cede. E sta cedendo ancora di più. Là sotto si è formata una buca, vedi? Il primo acquazzone forte, ma forte che verrà, il Comune si renderà conto che qua qualcuno si fa male. Perché ci sono danni veramente. E se vogliamo aspettare che si faccia male qualcuno, noi siamo a disposizione. Ma il Comune non c'è.